La moralità costituisce la spina dorsale di questa nazione. La spina dorsale. È una vasca perfettamente perfetta. Fino a che uno non ci resta incastrato dentro. Si chiama colpo della strega. E ora capisco perché. Ho il sospetto che finca di qualcosa. Cosa? L'ho detto che era un cavo di lecchizie e questo lo prova. Io ancora non ho capito perché sono successe le cose che non sarebbero dovute succedere e invece non sono successe le cose che sarebbero dovute succedere. Sono una bella australiana chiedelaide. Punto primo, punto secondo, punto terzo. Cos'è successo? Ma chi diamine è questo fisico? Ma lei non guarda la televisione. No! Io non la guardo la televisione! Signorale, tutto sarà tornato alla normalità. Mi piace tanto. Mi dispiace che cosa? Eh però se ti dico che mi dispiace non stare a puntualizzare. Mi dispiace. Ma lei non guarda la televisione. Grazie a tutti